E' un peccato darlo che siamo, non so quanti siamo, me ne sono i 150 ancora, perché chiaramente ho appena attaccato, però lo voglio dare appunto perché siamo pochi e non ci sono i freebooter o robe del genere. Diciamo che è una brutta notizia, neanche troppo, in realtà è che non me ne frega un cazzo per me, e una molto bella notizia, neanche per voi quanto per la contenutistica. Allora, la volete sapere questa notiziona? E' una notizia bella, che l'ho saputo ieri sera, ho detto ma veramente fai? Vabbè, se non la volete sapere allora io vado a farmi una s***a di bagno sull'olifanzi di qualche modella, se no ve la dico, ditemi voi. Allora, come lo sapevate, io domenica, salvo imprevisti, per imprevisti intendo Putin che decide di lanciare le atomiche e quindi il servizio non si incentrerà più su quello, cioè la puntata non il servizio, in teoria io domenica dovrei essere ad Agiletti, non sarò da solo, perché chiaramente vabbè, ci saranno anche tipo Carolina che mi accompagna, chiaramente, e anche altre persone ospiti in puntata. Mi hanno comunicato tutto l'elenco degli ospiti e diciamo che fra questi, con ottima probabilità, ce n'è anche uno abbastanza indesiderato. Allora, no, non è Fedez, non è Fedez, però è peggio, peggio, ecco, peggio, se voi dite, qual è secondo voi il peggior ospite che ci potrebbe essere per me? Scrivete un elenco di nomi, io vi dico sì o no, cioè vi dico dopo un po' di nomi se qualcuno ci ha indovinato. Quale potrebbe essere secondo voi il peggior ospite che ci potesse essere per me? Avete indovinato, non tutti, alcuni di voi. Potrebbe, potrebbe in trasmissione esserci Elia, potrebbe, non lo so perché non organizzo io la, cioè io, come si dice, ho partecipato alla scrittura del servizio e al recupero del materiale, oltre chiaramente alla partecipazione in puntata. Quindi io fondamentalmente mi occupo del materiale, mi sono occupato del materiale e della stesura del servizio, no? Eh, ma chiaramente gli ospiti in puntata non li decido io. Eh, questo non vuol dire che tutti gli ospiti vanno in onda nello stesso momento, però che effettivamente in puntata, eh, uno dopo l'altro, chi a distanza e chi fisicamente in studio, eh, ci saranno una serie di ospiti. Quindi, vi dico solo che uno di questi è molto molto famoso e lo stimo molto, ci ho parlato, ci ho avuto uno scambio di chiacchiere l'altro giorno al telefono, eh, molto molto good, però non vi dico chi è, ciao Zoe, non vi dico chi è, è un personaggio del web sempre inerente, un minimo, anche se in maniera un po' più esterna, a trap, eh, baby gang, non baby gang l'artista, baby gang tipo fenomeno baby gang, robe così, quindi sempre inerente ma molto più, eh, meglio visto, diciamo, ecco, eh, qualcuno ha indovinato. Poi ci sarò io, poi ci sarà a quanto pare Elia, beh, le alternative erano o Leo Gallagher, quindi nel senso forse mi è andata anche meglio, e in ultimo ci dovrebbe essere Carlos, in teoria, Carlos il figlio di Fabrizio, Carlos Maria Corona, eh, però, eh, c'è sempre il però, ovvero il punto di domanda, che chiaramente questo è un servizio molto molto grosso e molto molto interessante, di cui fra l'altro andrò fierissimo, è la prima apparizione in tv di cui andrò fierissimo, quindi spero che non ci siano problemi, eh, c'è un solo problema però, che Putin sta per bombardare l'Ucraina, il, il mio bro Vladimiro sta per bombardare l'Ucraina e se effettivamente Putin dovesse bombardare l'Ucraina, chiaramente lo speciale di, 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 di la 7 non verrebbe fatto su questo fenomeno qui, ma su, la guerra russa-Ucraina. Quindi, no, non in terza serata, lì c'è stato un problema col fatto che dovevo entrare subito, ma, eh, hanno dilungato un po' troppo il tutto. E quindi niente, eh, c'è questo problema, fra virgolette, nel senso che non è proprio un problema, però, insomma, eh, potrebbe, potrebbe, potrebbe diventarlo, perché io, non, cioè, lui è completamente fuori, quindi non so come, come reagisce, e, però, è anche da dire che siamo in uno studio televisivo, quindi, eh, punto di domanda. Stiamo a vedere che succederà, e, questo è il, il piccolo sp...